In un mondo che premia vincitori volgari, prevaricatori, sgomitatori sociali senza dignità e valore, fermiamoci per ricominciare. Attenta Beatrice, dove mi porti ora? Corri ora, vieni, basta! Io sono la felicità. Scopri con me ciò che dobbiamo. Chiedi ancora pietà per gli uomini che respirano solo denaro, senza altre certezze. Quello che veramente ami non ti sarà strappato. La memoria è la radice di quello che verrà!